La palla rimane ai finlandesi, esce Benetti però, il secondo intervento di Benetti non riesce, palla ancora a Jantunen, ancora Benetti e accorciano le distanze i finlandesi con un tiro di Vitila. Dopo un'azione confusa al limite dell'area, eccolo il tiro che ha battuto Zoffe, è stato scoccato da Aschi. Grazie. 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 Grazie.